Maggio si prospetta come un mese positivo per l'industria italiana. Secondo l'indagine di Confindustria sull'attività delle grandi imprese, il 45% del campione prevede un aumento della produzione rispetto al mese scorso. Solo il 6,2% ipotizza un calo, mentre il restante 48,8% non si aspetta variazioni significative. Questi dati evidenziano un sentiment in miglioramento rispetto alla rilevazione di aprile, dove il 33,3% degli intervistati ha dichiarato di attendersi un peggioramento della produzione, mentre solo il 17,3% ha dichiarato di attendersi un miglioramento. La dinamica di domanda e ordini continua a essere il fattore di traino o ostacolo più rilevante per le aspettative di produzione, secondo la rilevazione di Confindustria. Questo mese si osserva una flessione del saldo tra le imprese che la vedono come un fattore positivo e quelle che la percepiscono come un fattore negativo, passando da 13,7% nel mese di aprile a 7,6% a maggio. In lieve miglioramento la percezione di disponibilità di manodopera. Il saldo, seppur negativo, sale da meno 2,6% ad aprile a meno 2% a maggio. Restano alcune preoccupazioni per quanto riguarda i costi di produzione. Il saldo, seppur negativo, sale da meno 3% a maggio.